Carissimi amici ben ritrovati ad un nostro nuovo dialogo. Il nostro canale sta crescendo, sono contento, le domande, le riflessioni stanno giungendo e questo è un profondo stimolo di crescita soprattutto per me e per questo vi devo ringraziare. Vi devo ringraziare per queste vostre continue interazioni e io ho la speranza che tutto ciò possa continuare con reciproca soddisfazione. Ebbene, l'argomento del nostro incontro è la speranza, la speranza proprio nell'ottica del lavoro integrale che noi dobbiamo, che noi possiamo e che noi vogliamo compiere, la speranza. Allora, carissimi amici, permettetemi di cercare di stupirvi e di affrontare l'argomento non attraverso la solita lettura di qualche logion tratto da testi dell'antico gnosticismo o riflessioni immaturate sulla lettura di qualche maestro spirituale passato. Ma vi racconterò inizialmente di un esperimento, di un esperimento che è accaduto negli anni 50 alla John Hobson University. Scusatemi, la mia pronuncia è inglese, ma così è. Negli anni 50 fu compiuto un esperimento che è passato alla storia come il potere della speranza. Tenete presente che in quegli anni la sensibilità verso gli animali non era sicuramente come quella odierna e quindi l'esperimento di cui vi narrerò è un esperimento cruento. Il dottor Kurt Richter congegnò il seguente campo di azione. Una bacinella grande, stretta, lunga, pensata ad un vaso da fiori, cilindrico, che era in parte ricoperta e colmata di acqua. Non fino all'orlo, però diciamo fino a metà. In questo vaso, in questa bacinella, in questo cilindro, se preferite, furono messi, se ben ricordo, 12 topolini domestici, quelli carini che vediamo, un po' grigi, un po' bianchi, vede scorrendo. Questi topolini iniziarono a comportarsi in maniera diversa. Allora, il topo sappiamo che è un buon notatore. Alcuni di questi, incuriositi, cercando una via d'uscita, andarono verso il fondo e morirono affogati. Altri, invece, cercarono di rimanere a galla e resistettero per un paio di giorni. Poi, a poco a poco, morirono anche questi. Questo professore diede vita ad una seconda serie di esperimenti. Prese dei topi selvaggi, dei topi di fogna, dei sorci e che nell'immaginario collettivo sono più resistenti dei topolini domestici, vennero messi all'interno di questo cilindro, di questo vaso e lui si aspettava, ma anche noi onestamente, che questi avrebbero resistito per x periodi di tempo, più dei topolini domestici e invece, tac, in pochi minuti seccati, morti tutti, affogati. A un certo punto decise di, e tralascio tutta una serie di aneddoti di lui che va dal direttore e quant'altro, Ritter era un biologo, in realtà era uno psicobiologo, sono il genetista, sono tutti esperimenti questi qui che hanno come vocazione quella di comprendere meglio il comportamento degli esseri umani. Io onestamente ho dei dubbi, però questo è. Iniziò con la terza serie di esperimenti dove riprese nuovamente dei topolini, dei topi selvatici. Furono di nuovo messi all'interno di questo cilindro, in parte ricolmo d'acqua, però fu introdotta una variante. Nel momento in cui stavano per affogare, venivano recuperati, venivano posti in un ambiente caldo, venivano rifocillati. Ecco, era stata introdotta la speranza. Perché era stata introdotta la speranza? Perché purtroppo per questi topi non era finito qua. L'esperimento 3 aveva una seconda fase dove i topi venivano presi nuovamente rimessi all'interno del cilindro. A questo punto però loro sapevano o ritenevano che sarebbe stato possibile, che sicuramente ci sarebbe stato perché non avevano mai avuto un'esperienza di tutto ciò, un qualcosa, un evento sovra le loro possibilità a salvarli e quindi insomma cercavano di rimanere a galla, cercavano in qualche modo di barcamenarsi, ma non venne più nessun aiuto. E anche questi, dopo due giorni, due giorni, due giorni e mezzo, due giorni e qualche ora, ebbero tutti a morire annegati. Il professore era contento, era contento perché aveva introdotto questo elemento di speranza che si riteneva essere squisitamente umano all'interno di un comportamento individuale di un ratto e anche questo ratto fondamentalmente aveva tratto nuova energia, nuovo stimolo per sopravvivere. Bell'esperimento. Ecco, io ritengo che fondamentalmente niente sia di maggior impedimento nella ricerca spirituale, nella presa di coscienza di noi stessi, come la speranza riposta negli uomini. L'argonauta dello spirito non deve riporre speranza negli uomini, è foriera di illusione, di inganno, di suggestione. E lo vediamo, lo vediamo costantemente attorno a noi, costantemente ci vengono suggeriti, ci sono suggeriti comportamenti da seguire, normative a cui sottostare, indirizzi che dobbiamo perseguire. Ci viene detto costantemente, fin da quando noi siamo bambini, fai questo che è per il tuo meglio, fai così perché così fanno tutti. Abbi fiducia, abbi speranza che c'è un intervento che sarai aiutato. Un po' come le mascherine d'ossigeno quando l'aeroplano cade. Ma specialmente nei momenti drammatici, nei momenti epucali, ma anche e soprattutto nei momenti di svolta della nostra vita interiore, noi non dobbiamo assolutamente avere speranza, avere fiducia in chi che sia, ma solamente noi stessi. Noi siamo il nostro punto di forza e il nostro punto di debolezza. Noi siamo le alte mura della speranza che ci danno speranza. E qual è, amici miei e fratelli miei, la nostra speranza che ci permette di andare avanti nella ricerca, che ci permette di sostenere le prove di questo mondo? Non certo un salto quantico, conoscenziale o coscienziale, meccanico? Così. Non certamente un'idea di salvezza universale, sappiamo che non è così. Sappiamo che gli uomini che in qualche modo hanno la pretesa di gestire, impartire questa, di custodire questa via per la salvezza universale, sono uomini e ce lo ricorda quotidianamente, tutta la narrazione, sono uomini che sono intrisi talvolta nelle peggiori nefandezze che neppure il più pieco fra i profani potrebbe rompere. No. La nostra speranza risiede nelle nostre esperienze intime. Ecco, questa è la nostra speranza, questa è la nostra polverina di Peter Pan, il ricordo che, meditando, che pregando interiormente, che mantralizzando, noi abbiamo avuto un diverso stato di coscienza e da questo diverso stato di coscienza ci è giunto uno speraio di un mondo altro. Ci è giunto un lampo, un piccolo satori di conoscenza, ci sono stati dati degli strumenti. Questa è la nostra speranza, la nostra speranza che c'è altro e che c'è altro che non risponde alle logiche perverse di questo mondo, c'è altro che non è a nostra disposizione per regalia o per mercanteggio o per baratto o per intercessione di nessun altro uomo, ma solamente per frutto della nostra squisita, intima, genuina e pura volontà di potenza e di conoscenza. Questa è la nostra speranza, amici miei. Non altra. Perché continuo a meditare? Continuo a meditare in forza del ricordo di quelle beatitudini di cui ho goduto. Perché continuo a pregare? Perché continuo a pregare interiormente, intimamente, individualmente, in chiave spirituale? Perché ho ricordo della forza, della protezione, del raccoglimento di cui ho goduto? Perché continuo a dare vita a cicli di mantralizzazione e di parole di potere? Perché so bene che ognuna di esse è una chiave che mi permette di accedere a stati alterati di coscienza. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra fortezza e ci deriva dall'esperito individuale, dalla nostra pratica e non è soggetta a mercanteggio alcuno, neppure il mio né i vostri confronti. Ma siete voi maestri, siete voi e sono io, maestro e sacerdote di me stesso. Questa è la speranza. Del resto, amici miei, la nostra via, la via del nostro argonauta dello spirito è una via di titanismo interiore. La via dell'ognostico è una via titanica, perché sa bene che non potrà trovare alcun conforto, alcuna consolazione, alcun ristoro dalle cose di questo mondo, perché le cose di questo mondo, nel migliore dei casi, sono soggette a consunzione, sono impermanenti nel peggiore dei casi sono soggette a consunzione, sono impermanenti e ci legano e ci trascinano nella loro consunzione. Sono energivore, sono fatte apposta per questo. Quindi come possiamo noi, la nostra parte spirituale, trovare speranza in ciò che non ha speranza, trovare il futuro in ciò che non ha futuro, trovare eternità in ciò che è transuente? Non è possibile. È una questione di logica. ma le nostre esperienze interiori non avvengano nel tempo, non avvengano nello spazio, ma avvengano nel nostro tempio interiore, nel nostro locus spirituale. Queste sono e sono nostre ed è questa la nostra speranza. Ma perché dico la nostra speranza? Perché, vedete, riflettiamo bene, amici miei, e il sé, nella loro totalità, nella loro cangiante difformità, hanno però alcuni, almeno due elementi in comune. Il primo lo abbiamo già affrontato, solo frutto della nostra pratica, del nostro esperito. Ma il secondo è molto più sottile. Esse provengano da un punto, da un'anomalia, se volete, che non è espressione delle cose di questo mondo, e che necessariamente proviene da altro. Perché a pensarci bene, amici miei, le nostre esperienze interiori, la nostra capacità di alterare i nostri stati di coscienza, di percezione, è conflittuale, è, con una vita, sia con una vita squisitamente animale, cioè tesa a nascere, a crescere, a riprodursi e a morire, a comportarsi in maniera funzionale all'interno del grande ferreo meccanismo della natura. Ma al contempo sono anche stridenti rispetto al nostro ruolo di animali pseudosociali, di animali pseudorazionali, perché non ci permettano di vivere in modo silenzioso, serpioso, obbediente e conforme alla narrativa psichica in cui noi siamo immersi. Ebbè, quindi, o siamo un errore di fabbrica, probabile, ma del resto, talvolta, sono gli errori che rendano eccezionale e unico un modello, oppure, come ci suggerisce la narrazione gnostica, in noi alberga qualcos'altro che non è di questo mondo. Ecco, quindi, che essendo queste esperienze, che questi accadimenti che noi provochiamo, che noi costruiamo, che noi ricerchiamo con la nostra volontà di potenza, con la nostra azione, sicuramente stridenti e sicuramente non dettati dalle passive interazioni, dalle previsioni, della prevaricazione, dalle interazioni con questo mondo quaternario, e allora sono altro. Vengano da altro, ci suggeriscano che c'è altro e ci invita ad andare altro. Questa è la verità. Questa è la nostra speranza. Ed è la nostra speranza che nessuno ci potrà mai portare via, che non è la mano di uno scienziato più o meno pazzo che ci immerge all'interno di una bacinella di acqua, e neppure la mano sempre dello scienziato pazzo che ci toglie da questa bacinella. Perché ricordatevi, tutto quello che accade in questo mondo di bene, di apparentemente bene, che segue l'apparentemente male, è sempre frutto della stessa mano. No, la nostra speranza non è in questa mano. La nostra speranza è nelle nostre mani, nelle nostre mani spirituali. Ecco quindi perché praticare? Perché la pratica interiore è l'unica strada che noi abbiamo per l'altrove. per il nostro grande ritorno alla dimora del Padre Celeste e non dipende da nessun altro che da noi stessi. Carissimi amici, buona speranza, quella vera, a tutti noi.